Tra i grandi debitori di Veneto Banca figura anche uno dei marchi storici del passato industriale Cusiano, la Bialetti, il colosso del casalingo che da anni ha trasferito la sua produzione nel Bresciano, avrebbe ottenuto da Veneto Banca una linea di finanziamento di 13 milioni di euro. I nomi dei debitori della banca di Montebelluna sono stati pubblicati oggi sulle pagine del Corriere della Sera, notizie che arrivano nel mezzo del processo iniziato in questi giorni a Roma a 11 ex manager dell'istituto bancario. Tutti a vario titolo sono chiamati a rispondere delle false rappresentazioni fornite a Banca d'Italia e Consob rispetto ai conti di Veneto Banca. Il processo a seguito di mancate notifiche a quattro imputati è stato aggiornato all'11 dicembre, intanto oggi c'è stata la Costituzione delle parti civili, 3.500 ex azionisti, fra questi anche 30 verbanesi rappresentati dall'avvocato Clarissa Tacchini, poi la Banca d'Italia, Consob e diverse associazioni di consumatori. Martedì 19 dicembre si saprà quali parti civili sono state ammesse, sin qui sul piano legale. Sul piano occupazionale resta da dire che va avanti il processo di riorganizzazione dopo il passaggio dell'ex Veneto Banca intesa a San Paolo. Dal 7 al 9 dicembre è prevista la migrazione del sistema informatico che tradotto significa le ex filiali di Veneto Banca adegueranno i loro sistemi a quelli di intesa. In questi giorni i clienti dell'ex istituto di Montebelluna sono chiamati a recarsi presso le vecchie filiali per le comunicazioni relative al cambio di numero, conto e codice IBAN. A livello occupazionale da qualche settimana sono in corso i colloqui individuali degli ex dipendenti di Veneto Banca. Fonti sindacali riferiscono di primi informali colloqui, è facile ipotizzare però la discussione entra nel merito già prima delle vacanze natalizie. Il nodo più grosso è quello dell'ex direzione di Piazza Aldomoro, intesa avrebbe annunciato che limiterà al massimo gli spostamenti ma alcuni dirigenti sarebbero in partenza per Milano e Torino. Per le filiali resta aperta la questione relativa alle sovrapposizioni di sportelli.